Una cabina di regia a livello manageriale che prescriveva il collocamento delle obbligazioni subordinate in modo granulare, andando a individuare anche soggetti con un profilo di investitori a basso rischio e non più solo a rischio medio-elevato, in linea con la tipologia di investimento finanziario. Parla chiaro il comunicato della Guardia di Finanza di Arezzo in cui descrive le perquisizioni che sono state eseguite finalizzate alla ricerca e al sequestro della documentazione riguardante il collocamento sul mercato finanziario delle obbligazioni subordinate emesse dalla Banca Popolare delle Truche del Lazio, società cooperativa, ora in liquidazione coatta amministrativa, a eseguire le perquisizioni militari del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Arezzo e Firenze. L'attività investigativa, che segue l'ipotesi di concorso di persone nel reato di truffa aggravata, è indirizzata alla ricerca della documentazione e della corrispondenza dei vari responsabili di area che hanno imposto tramite circolari interne e altre condotte al vaglio degli inquirenti, la sottoscrizione di subordinate a una clientela retail, priva di un profilo finanziario adeguato all'investimento, proposto di norma ai clienti professionali che possiedono invece le competenze necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni e valutare correttamente i rischi che assumono. Grazie anche alle dichiarazioni contenute nelle oltre 400 denunce raccolte, prosegue la Guardia di Finanza, è emersa con ragionevole certezza questa cabina di regia a livello menageriale. In particolare le indagini hanno evidenziato che gli investimenti insubordinate su proposta dei responsabili d'area e degli uffici territoriali sono stati prospettati ai vari clienti come investimento sicuro e analogo a quelli in obbligazioni ordinarie e titoli di Stato. Qualche volta addirittura il cliente era stato spinto a effettuare il disinvestimento di operazioni a capitale garantito per favorire l'acquisto di queste obbligazioni subordinate che gli era stato proposto come una promozione della banca rivolta ai propri clienti migliori ma che doveva essere sottoscritta in tempi brevissimi. Purtroppo invece come è andata a finire per molti risparmiatori lo sappiamo già.